I podcast di La Sette, ovunque con te, Atlantide. Alan Friedman, Alan ci sei? Mi senti? Ci sono, caro Andrea, buonasera a tutti. Buonasera, Alan. Senti, più tardi, più tardi, fra poco, vedremo questo film documentario in cui viene indagata la psiche dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Ma nonostante tutte queste analisi, queste accuse che gli vengono fatte, ci sono milioni e milioni di americani che continuano a pensare che lui sia in questo momento l'uomo giusto, l'unico uomo giusto da mandare alla Casa Bianca. Perché? Perché Donald Trump continua a avere l'appoggio di circa 40% dei americani, la sua base, anche quando le sue politiche economiche o sociali fanno male a loro stessi, ragazze e madri che non possono più avere dei buoni federali di pasto, oppure donne o minoranze che vengono attaccate da lui. È una buona domanda. Io ho viaggiato in 20 Stati in America qualche anno fa per il mio libro Questo non è l'America, cercando di rispondere a chi era il vero elettorato di Trump. E ho scoperto che c'erano soprattutto quelli meno iscritti in America, quelli più poveri, quelli socio-economicamente svantaggiati. E' ironia, è paradosso, perché non si spiega, perché lui va contro di loro e loro appoggiano lui. Forse l'esempio più emblematico, Andrea, ho incontrato quando ho intervistato una donna di 25 anni, ragazza madre in Louisiana, viveva in una casetta di 40 metri quadrati e lavorava nel supermercato Walmart, grande catena di supermercati, e guadagnava 5 dollari all'ora netto, 7 dollari e mezzo lordo, quindi 4 euro netti all'ora. Quindi era povero, era lavoratore ma povero. Ho chiesto, ma perché voti Trump? E lei mi ha risposto, ma innanzitutto perché proteggerà il mio dritto di possedere una pistola. E ha tirato fuori dal divano una pistola, con la bambina di 6 mesi accanto. Ha detto, così se qualcuno viene a cercare di rubarmi, posso spararlo in testa, chiamare la polizia e lo portano via il corpo. Numero 2, perché lui farà in modo che l'aborto diventerà illegale. E infine, mi ha dato fastidio avere quel negretto nella Casa Bianca di Obama, ha detto, questa donna razzista, povra, ma proprio emblematico della base di Trump. È tragico, però non è soltanto l'America profonda, povra, poco iscritto che è volto a Trump. No, troppo facile. Quello forse è la metà della sua base. L'altra metà della sua base saranno milioni di americani che se ne fregano. Cioè, se lui è razzista, se lui insulta le donne, se lui attacca le minoranze, non importa loro, basta che lui taglia le loro imposte, il loro IRPEF. L'ironia di questo pure è che tutti i suoi tagli di imposti non hanno aiutato il certo medio, ma soprattutto quel 1% dei più ricchi. Quindi, perché 40% dei americani appoggiano Trump? Perché? Dico in una terza e ultima spiegazione. Perché ci sono tanti razzisti in America che ammettono o non lo ammettono, che veramente hanno paura che fra poco saremo più di 50% non bianco, ma afroamericano, ispanico, cinesi, etnico. E ci sono tanti che veramente hanno paura e pensano che Trump proteggerà in qualche modo i bianchi. E' terribile, ci sono tanti americani laureati che storciano il naso, votano Trump perché taglia le imposte. Ma veramente, Andrea, io credo che martedì prossimo, per la prima volta, vedremo un'America che comincerà a risvegliarsi, secondo me. Adesso ne parliamo, resta lì perché abbiamo un piccolo break pubblicitario e poi, naturalmente, dopo che avremo parlato c'è Unfit, questo documentario che, insomma, è davvero un provocatorio. E quindi restate con noi. Pochi minuti e torniamo con Alan Friedman e Unfit. Alan Friedman, una campagna elettorale aspra e radicalizzata come non si era mai vista. D'altronde Trump sostiene che quando lo attaccano, occhio per occhio, dente per dente. Però, in qualche modo, ha trascinato anche l'altra parte, i suoi avversari, più o meno sullo stesso terreno. Vediamo, Barack Obama, che cosa ha detto in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, a proposito dell'attuale inquilino della Casa Bianca. He hasn't shown any interest in doing the work or helping anybody but himself and his friends or treating the presidency like a reality show that he can use to get attention. But the thing is, this is not a reality show. This is reality. And the rest of us have had to live with the consequences of him proving himself incapable of taking the job seriously. We're not going to have a president that goes out of his way to insult anybody who doesn't support him or threaten them with jail. That's not normal presidential behavior. We wouldn't tolerate it from a high school principal. We wouldn't tolerate it from a coach. We wouldn't tolerate it from a co-worker. We wouldn't tolerate it in our own family, except for maybe crazy uncle somewhere, you know. I mean, why would we expect and accept this from the president of the United States? And how, why are folks making excuses for that? Oh, well, that's just, that's just him. No, it's, no, there are consequences to these actions. Alan Friedman, I've said that it's not only an American election the election of the president, because it has some consequences on the international level, it has some geopolitical consequences very important, and it has also for Italy. In this moment, who has more fear of losing it? Trump or Biden? Perché ti dico che io mi hanno portato quest'ultimo sondaggio della CNN, che dice a sei giorni, perché ormai sono sei, dall'Election Day, Joe Biden è davanti a Donald Trump, 54 a 42, ben 12 punti nell'ultimo sondaggio. Però noi sappiamo che nel 2016 questa, diciamo, convinzione che poi Hillary Clinton dovesse vincere a mani basse, si è ribaltata in maniera sorprendente. Secondo te com'è la situazione attuale? Allora, rispondo prima alla tua domanda sulla geopolitica e poi mi soffermo brevemente sulla situazione proprio dei sondaggi. Perché hai sollevato, Andrea, la questione del resto del mondo e voglio ricordarci che questa elezione americana non riguarda solo noi americani e quello che accade in America, riguarda l'Europa, riguarda l'Unione Europea, riguarda l'Italia, Germania, Francia, riguarda tutti gli alleati tradizionali di America. Trump, isolazionista e in qualche modo amico grande di Vladimir Putin, Trump è andato contro la Nato, contro l'Unione Europea, minacciando Dazi contro i prodotti italiani, fra l'altro. Ha fatto la guerra con la Cina, che spiega in parte perché ora Wall Street sta cominciando a appoggiare Biden perché hanno più paura di Trump che Biden. Ma l'Europa, negli ultimi sondaggi, è 80% a favore di Biden, naturalmente perché tanti europei vorrebbero un'America come era prima, un'America amico dell'Europa, un'America che fa parte della difesa dei diritti umani come prima, un'America che fa parte del sistema multilaterale delle regole, del sistema di commercio o dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alan, l'unico che ha scommesso così al buio su Trump e che rischia moltissimo è Boris Johnson. Si è staccato pensando di avere una sponda certa dall'altra parte e adesso è un po' nei guai. È vero. Io conosco Boris Johnson e eravamo giornalisti insieme e Boris Johnson non è una persona molto seria, è molto intelligente ma è un po' un buffone. Quindi lui merita Trump. Sicuramente sarà dispiaciuto Putin, Bolsonaro, Orban, Erdogan, Kim Jong-un, tanti dittatori che sono amici di Trump. Ma Trump sta per perdere e vi dico stasera Andrea che io sono convinto che questi sondaggi questa volta forse non è 12 punti di vantaggio che Biden ha ma solo 5 ma questa volta c'è una tsunami in arrivo secondo me martedì prossimo. Non sarà testa a testa, non sarà come 2016 perché secondo me il fatto che abbiamo 70 milioni sono gli americani che hanno già votato, l'ultima volta hanno votato un totale di solo 120 milioni e la maggior parte di questi sono Democrats. Io credo che Biden vincerà perché io credo che il vecchio proverbio di Abramo Lincoln sarà validato questa volta, cioè si può ingannare un po' di gente per un po' di tempo ma non si può ingannare tutti per sempre. Senti, a proposito di questi sondaggi e di quello che tu chiami uno tsunami in arrivo evidentemente anche Trump stavolta non è molto sicuro di sé. Tu hai pubblicato un tweet nel quale hai allegato un video di Trump che parla di Kamala Harris cioè della candidata vicepresidente. Te lo faccio rivedere così ne parliamo. Joe Biden, Kamala, do you like Kamala? Do you like her to be your first president? If he gets elected three weeks into his presidency they'll say Kamala are you ready? Let's go. That's why they're talking about the 25th Amendment, right? Three weeks. Three weeks in, Joe shot, let's go Kamala, you ready? Most liberal person in the Senate. She makes Bernie Sanders look like a serious conservative. This, this will not be, we can't let it happen, this will not be the first woman president. You're going to have a woman president. This will not be the first woman president. Beh, nessun dubbio che rispetto al primo scontro televisivo tra Trump e Biden quello tra i due candidati vicepresidenti abbia visto Kamala Harris, diciamo, emergere come tono, come standing, come carisma e in effetti vedi che Trump ha spostato il mirino verso di lei dicendo forse quella è la cosa in più che ha Biden per poter vincere, è così? Dunque, due osorazioni, quello che abbiamo appena visto contiene anche Trump che dice dopo tre settimane viene assassinato, viene sparato, sciocca, e diventa presidente Kamala già il fatto che Trump dice sempre ai comizi mettiamo in galera Obama, già sciocca ma dire che sarà assassinato è ancora più pesante, ma non abbiamo visto niente nei prossimi giorni Trump sarà ancora più pesante, però Kamala Harris sta emergendo come la vera star segreta di questa campagna, perché Kamala Harris non è Bernie Sanders, non è di sinistra è un democrat di California, figlia di un padre intellettuale di Jamaica, una madre di Calcutta in India una californiana che ha fatto da sé, è diventato il procuratore generale di California, senatrice ed è veramente una specie di Kennedy nuova, carisma, progressista, ma sull'economia liberista, quindi interessante vedremo adesso tra un po' in unfit questa analisi sulla psiche di Trump, tra l'altro è un documentario costruito molto bene, però io vorrei restare su un paio di pilastri di questa discussione uno è Kamala Harris, l'altro pilastro è l'elezione di questa nuova giudice della Corte Suprema che sposta decisamente gli equilibri all'interno della Corte Suprema verso i conservatori in vista di quella che potrebbe essere da parte di Trump un rigetto dell'eventuale sconfitta alle elezioni. Vediamo chi è questa giudice, vediamo come lui l'ha presentata. The First Lady and I welcome you to the White House to bear witness to history. In a few moments we will proudly swear in the newest member of the United States Supreme Court, Justice Amy Coney Barrett. So help me God. So help me God. Alan, secondo te Trump è davvero pronto ad arroccarsi, a chiudersi dentro la Casa Bianca nel caso venga sconfitto? Dipende se la sconfitta sarà una sconfitta, una vittoria schiacciante da Biden, una sconfitta grosso di 5-10 punti percentuali, chiaro già la serie del 3 novembre, oppure se sembra la serie del 3 novembre che non c'è un risultato chiaro e bisogna aspettare i famosi voti per posta, via posta, che noi americani mandiamo 70-80 milioni di voti per posta in questi tempi di Covid. Scusa Alan, a questo proposito mi pare che c'era stato un tentativo per dire no, i voti che vengono conteggiati dopo il giorno delle elezioni non sono più validi, ma è stata rispinta questa, diciamo questo tentativo di bloccare il conteggio di quei voti, è così? No, è stato rispinto in Pennsylvania dove la questione è ma se X mila o milioni di persone votano, mandano la vostra via posta e viene timbrato entro il 3 novembre ma arriva due o tre giorni dopo, si può contarlo? Risposta in Pennsylvania sì, ma la Corte Soprema già prima dell'arrivo della nuova giudice di destra estrema Amy Coney Barrett ha detto in Wisconsin, ripubblicano, no, si può cancellare i voti se non arrivano entro il 3 novembre. Quindi Trump ieri sera ha detto chiaro e tondo, in modo esplicito, io spero che tante delle azioni legali che io, Trump, ho lanciato in Nevada, in diversi stati, contro i voti postali saranno convalidati dalle sentenze delle giudici che lui ha nominato in questi stati per squalificare i milioni di voti. Lui ha detto esplicitamente che il suo piano è questo. Cosa aspetto che arriverà questo alla Corte Soprema? No, quello è molto difficile, ma aspetto sicuramente che Trump lancerà, se il voto è vicino, una serie di quelle legale. Potrebbe incitare la violenza, fomentare la violenza con la sua capacità di chiamare i suprematisti bianchi con le mitraglie, quelli violenti, i cosiddetti proud boys. Nell'ultimo dibattito ha detto stand back, stand ready, cioè state pronti, siete pronti per agire. E quindi cosa farà Trump? Nessuno sa. Può essere tutto un bluff esagerato? No. Ci sarà confusione e accuso di imbroglio? Sicuramente. L'unica cosa che farà la differenza, ripeto, è se la distanza fra Trump e Biden già il 3 novembre, non con qualche conto che va avanti qualche giorno, è chiaro e netto. E questo speriamo, ma non sappiamo se sarà così. Sulla Amy con i Barrett voglio dire una cosa importante che forse non tutti in Italia capiscono. In America sono nove giudici della Corte Suprema, non è la Cassazione o la Consulta, è il potere assoluto per decidere le leggi in America su ogni fronte, compreso le leggi su aborto, divorzio, discriminazione contro i gay o minoranza, tutti i temi sociali. La Amy con i Barrett è una specie di Pino Rauti della destra sociale in America, una specie di militante anti-apportista che ha già parlato e anche fatto azione contro l'uguaglianza fra i generi, dicendo che il matrimonio gay va cancellato, contro l'aborto e a favore di pistole, armi per tutti. Quindi è proprio uno molto esagerato. La sua nomina vuol dire che Trump ha tre giudici. Questi tre giudici lasciati così a vita, con la maggioranza sei tre, significa che è inevitabile che la Corte Suprema a un certo punto, nei prossimi mesi o anni, cercherà di dichiarare l'aborto, il diritto di una donna a decidere lei quello che vuole fare con il suo corpo, illegale in tutta America, una cosa che ci riporterebbe al 1974. E anche se Trump viene sconfitto, l'influenza della Corte Suprema continuerà per anni, se non per generazione. Quindi Biden è sotto pressione di aumentare il numero di giudici a 11 e riequilibrare la Corte Suprema con nomine sue dopo la sua elezione. Vedremo se succederà questo o se siamo condannati a vivere in una specie di Family Day di Verona in tutta l'America per sempre. Senti Alan, un'ultima domanda, però ti chiedo una risposta breve. Prima, diciamo, tu hai fatto un'analisi sintetica dell'elettorato di Trump, con quell'esempio agghiacciante della madre di un bambino di sei mesi che lavora per 4 euro all'ora però è contenta perché può comprare la pistola, perché questo le consente questo Presidente degli Stati Uniti. Ma si fa fatica però, diciamo, a bollare tutto il suo elettorato come un elettorato razzista, estremista, cattivo, armato. Cioè c'è anche un sacco di gente che, diciamo, pensa che Trump sia l'uomo giusto perché fa salire la borsa, perché toglie le tasse e quindi che, diciamo, guarda più a dei valori di altro tipo. È così? Sì, l'ho detto prima, forse non ero abbastanza chiaro, ma lo ridico. È chiaro che la base di Trump, se ci sono 40% di americani che sono per Trump e non importa quello che dice o fa, la metà di questi sono quelli poveri, ignoranti, poco istriti, hillbilly, se vogliamo. L'altra metà sono ripubblicani che storcino il naso, sono un po' imbrazzati, tengono segreto che votano Trump, ma piace che Italia le imposte per i ricchi e che i loro investimenti vanno bene a Wall Street. Quindi c'è anche quella fascia. Però gli ultimi sondaggi ci mostrano la maggioranza delle donne come incessa contro Trump, la maggioranza di over 65, la maggioranza dei giovani fra 18 e 25, la stra maggioranza di afroamericani, ispanici e altri. Quindi secondo me quella base è un po' razzista, è un po' non voglio sapere la parte brutta darmi un'economia buona, ma la maggioranza degli americani, noi siamo meglio di questo Andrea e io credo e spero che martedì prossimo mostreremo che noi americani siamo meglio di questo Trump. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast